Una mattinata all'insegna del divertimento tra i corridoi di un ospedale a poche settimane dal Natale. Il laboratorio didattico Piccoli Pasticceri con Di Vella ha fatto tappa nel reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari. L'iniziativa rappresenta la sinergia tra la F Di Vella S.p.A. e la PLETI, l'associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell'infanzia. A cimentarsi nella realizzazione del dolce italiano più conosciuto al mondo, i bambini che durante la giornata sono entrati in ospedale per sottoporsi ad un dei ospital programmato. Un'occasione per trasformare per qualche ora il reparto di un ospedale in un luogo magico nel quale sprigionare fantasia, autostima e allegria. A guidare i bambini nella realizzazione dei loro capolavori, il corporate chef aziendale Donato Carra. Quanto rende felice uno chef fare un laboratorio di questo genere? Guarda, tanto, lo sappiamo girando per le tante scuole di tutta la Puglia, ludoteche, associazioni. Oggi è un momento particolare per questi bambini, è una grande gioia nel cuore. Quindi, bella esperienza, una bella esperienza per me che mi riempie il cuore. Obiettivo dunque rendere il più possibile piacevoli le ore da trascorrere in ospedale con l'umanizzazione delle cure nei confronti dei bambini. Beh, sicuramente è un'attività che aiuta i bambini. In generale la cucina è un mondo di creatività nella quale un po' ci mettiamo in gioco, no? E in più l'idea di poter realizzare qualcosa, vederla e poterla anche assaporare sicuramente aiuta i bambini dal punto di vista della loro stima e dell'idea di poter realizzare e riuscire in quello che fanno. E in più l'idea di poter realizzare e riuscire in quello che fanno.